L'amore vero fra due persone che possono essere dello stesso sesso o di sesso differente è un sentimento profondo che dura nel tempo è fatto di passione, di dolcezza, di stima verso l'altra persona non è mai fatto di odio o di prepotenza o come un possesso l'amore deve essere libero e spontaneo e ti deve far sentire bene e quindi quella è la vera relazione e avere molte cose anche in comune e però avere ognuno il proprio spazio libero il proprio spazio libero il proprio spazio libero grazie a tutti